Ciao ragazzi e ciao ragazze, sono Matrix, siamo pronti per lanciare la Papu Dance Challenge! Come funziona la Papu Dance Challenge? E' semplicissimo, dopo aver ballato, basta sfidare un minimo di tre amici a ballare la Papu Dance sulle note di Baila Comol Bapu, caricare il video sul profilo social, taggare le persone sfidate e aggiungere l'hashtag Baila Comol Bapu. Ti raccomando anche di comprare Baila Comol Bapu da iTunes o da qualsiasi digital store, poiché tutti i guadagni saranno devoluti in beneficenza all'Associazione di Insuperabili Onlus Scuola Calcio per i Disabili. Detto questo, che abbia inizio la sfida! Sfido Andrea Damante, Cristian Marchi e Paolo Ortelli, accettate la mia sfida?